ciao video recensione di leo mai raccontato del vento del nord di daniel glattauer non so se si pronuncia così leggo in quarta di copertina grande successo anche come radiodrama opera teatrale e audiolibro ha anche una ha anche avuto un attesissimo seguito la settima onda io mi ci sono innervosita da pazzi ho trovato è uno scambio di mail fra due persone che a un certo punto si incontrano senza però riconoscersi con sicurezza e vanno avanti per un sacco di tempo a dirsi secondo me sempre le stesse cose e a darsi sui nervi uno con l'altro dando di conseguenza sui nervi anche a me ho trovato lei per il classico personaggio femminile creato da un uomo e quindi con delle caratteristiche maschili che per carità ci stanno benissimo però qualche cosa di femminile un minimo di sensibilità un minimo di ce l'hanno anche gli uomini per carità di dio però qualche cosa di tipicamente femminile non ce l'ha insomma io vorrei molto sapere se qualcuno di voi lo ha letto e se mi può dire che cosa ne pensa mi farebbe piacere vi saluto